Il nuovo attaccante del Teramo ha un volto ma soprattutto un nome e un cognome ed è soprattutto il cognome ad aumentare le speranze in casa biancorossa. Si tratta di Francesco Forte, romano di 22 anni, scuola Inter con un'esperienza appena terminata la Cremonese. Coi grigio e rossi quest'anno 14 presenze e 3 reti, ma i tifosi dell'Aquila lo ricordano bene e forse speravano di non incontrarlo mai più nel girone B. Perché Forte la passata stagione ha fatto male, davvero molto male, e rosso-blu. Dopo la prima parte di campionato con la maglia del Folri, condita da soli due centri, infatti, col mercato invernale e col passaggio alla Lucchese, la punta ha ritrovato il feeling con il gol. A segno dieci volte il rossonero, un po' in tutti i modi, di testa, col sinistro, piede preferito, sul rigore, di potenza. Dunque sarà lui, mancino dal futuro garantito, a dover portare quei gol semplici, quelli che tanto sono mancati nelle partite impantanate, come quella di sabato pomeriggio col Ponte d'Era. Trattativa Lampo, impostata direttamente dal presidente Campitelli, salito personalmente con l'intero staff mercato, a prendersi l'attaccante. La speranza è che, come nel 2014-2015, il cambio di casacca possa portargli bene. Se lo augura Vincenzo Vivarini, che potrà schierarlo, forse già dalla gara interna di sabato contro l'Ancona, Forte può adattarsi a cantare e portare la croce, giocando come unico riferimento offensivo, oppure accanto ad una punta, anche fisica, come quando vicino aveva il montenegrino Filippo Raicevic. Curiosità, uno degli obiettivi estivi dei Biancorossi. Non è arrivato lui, è arrivato Forte, corteggiato anche dall'Ancona. Il Teramo, almeno sul mercato, i Dorici, dunque, li ha battuti. Ora, i tifosi si aspettano il bis anche sul campo, sperando magari di vedere un Teramo più forte, è proprio il caso di dirlo, di quello che hanno ammirato finora.